Saremo anche noi lì per presentare il nostro prodotto, la nostra passione che mi è stata tramandata da mio padre con molte aziende locali in cui ho vissuto con loro parecchie esperienze che rappresentano molto il nostro territorio e sono molto contento di andare là insieme a loro in questa nuova esperienza per presentare ciò. Da molti anni ci dedichiamo principalmente all'allevamento di bestiame sia allo stato brato che allo stato semibrato. Alleviamo un po' tutti i tipi di animali. Oggi il consumatore ha perso un po' quello che è l'interesse o ha perso quello che è la ricerca della qualità già che sul mercato oggi si propongono tutti i carni di poco prezzo. Il gusto si sta perdendo e siamo nati noi per dare qualità, una qualità sicura, allevata su un territorio stupendo come la nostra azienda. Quindi vi aspetto il 7 luglio a Expo Milano a Piazza Erpina dalle 10 alle 23. Grazie. 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 Grazie.